Bonjour ragazze, bonjour ragazzi e benvenuti finalmente ad un nuovo vlog, mi siete mancati tantissimo in queste due settimane che non ho fatto video quindi vi mando un bacio enorme subito, non voglio aspettare la fine del video per darvi un bacione ma ve lo mando subito comunque io sono ragazzi in partenza per l'Italia, ho avuto delle giornate strapiene allora, a parte che vi avevo anticipato su Instagram, ero convinta di avere un'infezione all'occhio ero convinta di avere la congiuntivite, adesso vi racconto in realtà, poi mi sono anche spaventata perché ho detto oddio magari ho il covid perché in tantissimi avete scritto Nicole, il covid a me è iniziato così con la congiuntivite quindi io un po' impanicata comunque ho fatto il test ieri, negativo, oggi sono in partenza per, ho il volo per Venezia e poi vado a Trieste e poi sto qualche giorno a Trieste, poi vado a Milano e poi ritorno ad Amsterdam da Milano quindi mille test da fare insomma però è molto più fattibile adesso che hanno tolto la quarantena in Italia e quindi qui ci sono i gattoni che già hanno capito che sto complottando qualcosa perché ho preparato le valigie e quando vedono le valigie specialmente Gatto Denver va un po' in ansia sei bellissimo amore mio mi mancherai tantissimo amore ma sono solo pochi giorni sono solo pochi giorni nuvoletta bianca morbidosa tutto soffice soffice amore mio mi manchi tanto 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 ma ho messo la videocamera e quindi monitorerò i gatti costantemente Gattastellina io non ti mancherò tantissimo lo so ma tu mi mancherai io ti voglio tanto bene Gattastellina tu a tratti mi vuoi bene Gattastellina mi mancherai un'altra patatina ho già preparato la valigia devo solo aggiungere il beauty case perché ho usato le cosine per fare la doccia però è pronta si lo so la mia valigia è vecchia rovinatissima ma a me va più che bene così la voglio più rovinata è meglio è visto che già me l'hanno aperta una volta non voglio che dia nell'occhio qui c'è il delirio non vi spaventate ma allora sì qui ci sono qui c'è il bagaglio a mano ho messo solo due borsette che porterò con me qualche gioiello e poi metterò qui anche il computer questo appunto viene con me sul sull'aereo e qui ho svuotato tutte le borse e anche qui ho svuotato tutti i miei gioielli e sono tutti in un posto sicuro li ho portati appunto via perché poi qui ho dato le chiavi alla cat sitter che verrà a prendersi cura dei gatti ogni giorno facciamo la skincare assieme così nel frattempo chiacchieriamo un po' allora quando devo viaggiare in aereo come sapete preferisco non truccarmi se posso se non devo andare direttamente ad un evento a un meeting eccetera in questo caso vado a casa mia a trieste quindi appunto lasceremo respirare la pelle però una cosa molto importante sull'aereo la cabina è sempre molto secca l'aria è sempre molto secca e quindi la pelle si secca tantissimo quindi prima di andare in aereo sto sempre molto attenta a idratarla per bene ecco anche se non è un volo lunghissimo perché sono due ore Amsterdam Venezia in ogni caso appunto voglio idratare bene la pelle ho già lavato il viso nella doccia quindi passiamo direttamente al siero solitamente io applicavo prima la crema sul contorno occhi e poi il siero viso però teoricamente andrebbe applicato prima il siero viso e poi la crema occhi quindi facciamo così vado vado ad applicare il mio siero questo è il super serum definitivo di lab care cosmetics lo conoscete molto bene questo contiene la parte sopra vedete sono due prodotti in uno praticamente la parte sopra sono oli naturali idratanti la parte sotto è acido ialuronico che come sapete è molto importante per mantenere l'idratazione nelle ore quindi è un prodotto perfetto per me in questo momento anche se lo uso praticamente ogni giorno vado a shakerare 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 bene perché così lo attiviamo e voilà e vado ad applicare non tantissimo però lo applico sia sul viso che sul collo ed ecco il tè tra l'altro in questo periodo qui fa ancora molto freddo c'è moltissimo vento e la mia pelle è secchissimissimissima adesso contorno occhi di solito la mattina applico il contorno occhi tra azioni che è più leggero però siccome in questo caso devo andare in aereo voglio una crema un pochino più idratante vado ad applicare questa che solitamente uso la sera ed è la crema contorno occhi oro di lab care cosmetics che contiene vero oro 24 carati illumina tantissimo il contorno occhi ma è anche bella densa ecco così riuscite a vedere la consistenza è molto molto densa e quindi dà un'idratazione un nutrimento profondo adesso come idratante vado ad applicare la crema viso anti age questa è quella con microsfere attive eccole qui così riuscite a vedere bene le microsfere attive che poi una volta che andiamo a massaggiare la crema sul viso si sciolgono e rilasciano i principi attivi metto un po' di crema sul palmo della mano e poi vado a prendere le mie gocce con vitamine AC ed è adoro questo prodotto e lo aggiungo sempre alla mia crema idratante le vitamine sono importantissime ragazzi per idratare la pelle e per mantenerla luminosa forse l'ho messa un po' troppa e vado ad applicarla abbondantemente come al solito per lab care vi lascio il codice sconto che kiss 40 e vi dà il 40% di sconto su tutto il sito lab care trovate il link diretto al sito giù nel box informazioni quindi skin care completata ragazzi adesso vado a vestirmi e siamo pronti amore mio lo so anche tu mi mancherai tantissimo lo so amore mio lo so amore mio mi mancherai il amore della mia vita sei tu sei tu sì per sempre tu ok è tutto pronto ancora una decina di minuti per chiacchierare con voi prima di chiamare uber volevo spiegarvi questa cosa della congiuntivite ragazzi perché fa troppo ridere cioè io per tre giorni ero convinta di avere un'infezione all'occhio ero convinta di avere la congiuntivite ho messo le gocce antibiotiche e non mi passava anzi peggiorava e continuavo ad avere la sensazione come di avere qualcosa nell'occhio magari una ciglia eccetera e continuavo a cercare di togliere continuavo a strofinare ma non passava siccome però la sensazione che hai quando hai un'infezione all'occhio è di avere qualcosa nell'occhio anche se non ce l'hai perché è solo la sensazione ero convinta che fosse questo cioè pensavo sarà la sensazione in realtà non ho nulla però appunto questa infezione non passava anzi peggiorava il terzo giorno mi sono svegliata ragazzi che non riuscivo praticamente neanche a tenere l'occhio aperto dal dolore per quanto era rosso alla fine quel giorno ero davanti allo specchio appunto spinzettavo le sopracciglia e noto qui nell'angolo interno dell'occhio destro un pelucchio biondo castano biondo e io pensavo fosse una ciglia anche se le mie ciglia non sono così chiare sono chiare naturalmente ma non così chiare specialmente da quando uso i sieri per le ciglia quindi si sono anche scurite un bel po' e quindi vedo e dico cos'è sta cosa ma pensavo niente di che pensavo mi fosse appena caduta una ciglia ok vado con le dita per toglierla cioè vi giuro non usciva ci provo ci riprovo niente al che prendo le pinzette vado prendo questa ciglia ragazzi io ho tolto un pelo di odri dal mio occhio che sarà stato lungo così e lo sentivo che usciva dalla parte superiore dell'occhio cioè una cosa che non mi era mai capitata questo pelo è rimasto lì per tre giorni e mi ha fatto un'infezione terribile perché ancora il mio occhio non è apposto al 100% diciamo al 95% però così dovete sapere gattastellina io ho pensato gattastellina ha trovato un nuovo metodo per uccidermi cioè ha cercato di farmi venire un'infezione all'occhio e c'è quasi riuscita il fatto che avevo spazzolato gattastellina il giorno prima di svegliarmi con l'occhio gonfio e io penso che spazzolandola appunto non sapete quanto pelo le ho tolto perché sta perdendo il pelo estivo cioè sta perdendo il pelo invernale per avere quello estivo e quindi ne perde tantissimo la stagione in cui i gatti perdono più pelo è quella che va dall'inverno all'estate perché appunto perdono tutto il pelo invernale che è molto molto pesante e io tra tutti questi peli non so come deve essermi entrato nell'occhio e ragazzi era lunghissimo e appunto mi usciva dalla parte superiore e lo sentivo proprio dentro l'occhio che si muoveva per uscire una cosa non potete capire ma quando l'ho tirato fuori finalmente sapevo che cos'era che mi stava causando quell'infezione e ho tirato un sospiro di sollievo che voi non avete idea perché appunto poi il giorno dopo dovevo fare il test però sono andata a fare il test molto più tranquilla sapendo che era quel pelo ho rimesso poi le goccine antibiotiche la sera e la mattina dopo ma appunto il giorno dopo mi sono finalmente svegliata riuscendo ad aprire l'occhio quindi io in quei giorni ho dovuto rimandare tutte le collaborazioni che avevo tutte le sponsorizzazioni, tutti i video che volevo fare alle foto cioè tutto praticamente perché ero in delle condizioni ragazzi che non avete idea tutto per colpa tua gattastellina gattastellina che non viene tantissimo da me a farsi coccolare adesso ma mi mancherà tanto 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 i miei gattoni mi mancano da morire quando non sono con loro da impazzire petettina sto lasciando il cellulare in carica fino all'ultimo secondo così avrò batteria in viaggio i gatti sono sistemati gli ho messo un sacco di acqua in giro per la casa vabbè che io esco alle 6 di sera e domani mattina viene qui la cat sitter però hanno questa bacinella piena d'acqua fresca altra ciotola piena d'acqua fresca e le metto in posti diversi in modo che se per sbaglio dovessero rovesciarne una appunto un'altra è lontana perché se sono tutte vicine e le rovesciano poi rimangono senza acqua insomma io penso a tutte le eventualità quindi abbiamo acqua lì acqua qui acqua lì un sacco di crocchette appunto però solo per questa sera e questa notte praticamente quindi basteranno e avanzeranno e poi ho dato istruzioni alla signora appunto alla cat sitter di dar loro una scatoletta al giorno metà a testa oltre alle crocchette e adesso sono le 18.03 ragazzi e devo scappare chiamo uber le valigie sono pronte che ha come al solito due valigie cioè io mi porto dietro veramente la vita cioè questa è la valigia ragazzi quattro giorni quattro giorni ed è pesantissima comunque ho fatto del mio meglio avrei potuto portare più roba sono stata brava fidatevi adesso chiamo uber e il viaggio per l'italia a inizio l'aeroporto come potete vedere è parecchio vuoto sì parecchio deserto anche se devo dire che c'è già un po' più di movimento rispetto all'ultima volta che ho viaggiato e questo mi fa piacere adesso sto andando verso il mio gate che è B prima di andare al gate c'è questo check per la salute ti misurano la temperatura e poi ti danno questo formulario insomma in inglese e in italiano da compilare praticamente un'autocertificazione vi faccio vedere un'autodichiarazione appunto per il covid e io ho portato la mia penna così non devo aspettare che finiscano gli altri perché ogni volta vi capita e questa volta ho la mia penna ho appena fatto 500 km ragazzi praticamente tutto alla fine del gate B per fare questa autocertificazione e prendere la temperatura e poi tutto dall'altra parte al gate C11 adesso sono qua appunto il mio gate che sto aspettando di salire sull'aero nel frattempo ho studato 7 camice ragazzi e adesso ho anche fame quindi sto pensando visto che ho veramente tantissimo tempo sto pensando di andare a prendere qualcosina di mangiare più o meno la metà dei ristoranti e dei bar sono chiusi purtroppo però è logico visto che c'è veramente pochissima gente in giro per farvi capire questi sono quello è il mio gate il C11 e non c'è nessuno vabbè che è anche parecchio presto però appunto è ancora parecchio vuoto quindi anche i servizi in aeroporto molti sono chiusi comunque volevo farvi vedere ho compilato tutto quanto con i miei dati e poi alla fine hanno semplicemente messo questo timbro con la data di oggi e basta questo è quanto mi hanno preso la temperatura e questo è quanto sto per salire sull'aero è iniziato a diluviare ragazzi aiuto ci stiamo muovendo fuori il tempo sta peggiorando di secondo in secondo praticamente purtroppo la cosa non mi fa per niente piacere come al solito la mia ansia stiamo muovendo verso la vista non so se riuscite a sentirmi ma tra poco si decolla a l'usile quindi ci siamo riuscite 2 le paure 4 le paure 4 le paure I'm expecting a bit le turbulenze sono iniziali e questa è la parte del partito io mi chiederei di riferire al tuo sentito con il tuo sentito rilassato è solo 15 minuti a passare e ci saranno iniziamo a 10 o'eroporto di Fennese atterrata ragazzi alla fine è andato tutto bene anche se ho avuto dei momenti di terrore per via delle turbulenze poco prima dell'atterraggio ma ce l'abbiamo fatta adesso sono qui agli arrivi che sto aspettando Neil che dovrebbe arrivare spero perché altrimenti rimango qua nell'aeroporto di Venezia bene che è tra l'altro un deserto come potete vedere non c'è praticamente nessuno solo io bene ed eccomi finalmente con Neil ragazzi ciao a tutti Neil è impegnato alla guida in questo momento quindi non disturbiamolo troppo sappiate che sto filmando queste scene perché la batteria della mia videocamera è morta da quando ho la Sony la batteria veramente delle Sony non dura nulla cioè come qualità è molto meglio però le batterie sono terribili ne ho un'altra di scorta però è dietro in Parigi quindi sto filmando con il cellulare di Neil come sta andando allora questo cellulare il tuo nuovo iPhone 12 Pro Max lo uso tantissimo per le foto e i video e poi basta e poi basta ma come basta perché perché poi basta mi trovo basta non dobbiamo chiedere altre informazioni perché non bisogna è lunga la lista di tutte le cose mi provano bene perché lo... ok insomma ti piace come su puoi dai bene 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 sono contenta e quindi ragazzi noi adesso ci mancano ancora circa 100 km perché appunto sono terrata a Venezia stiamo andando verso Trieste mancano ancora forse un po' meno di 100 km poi finalmente rivedrò mia mamma e non vedo l'ora di mangiare qualcosa perché ho mangiato un panino che tra l'altro era anche disgustoso e basta oggi nient'altro quindi sì questo è quattro ragazzi anche perché poi non appena arrivo a casa mi metterò al montaggio di questo video quindi vi saluto qua per oggi ma vi aspetto domani alle 17.30 io mi sento che vuoi dire qualcosa ciao a tutti sempre questo i repertori se lo ce l'ho a tutti e arrivederci quindi noi ci vediamo sempre puntuali domani alle 17.30 io vi mando un bacio grandissimo venite qua che finalmente posso riebracciarvi forte 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 a domani ciao ciao buonanotte ciao 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 ciao